Non avevamo chiuso questo capitolo, risolto il problema? Dal punto di vista normativo io credo di sì, però faccio fatica a capire una questione e per la verità faccio fatica a capirla da 40 anni, perché questo problema si ripete da circa 40 anni, il segreto investigativo tutela le indagini, non la reputazione delle persone, la reputazione delle persone è tutelata dalla diffamazione, allora se uno si sente leso dalla pubblicazione di un'intercettazione deve sporgere querela, non lamentare la violazione del segreto, ma se domani uno scrive che io sono un ladro, non è che posso dire che è una violazione del segreto, sono un ladro ma non si deve sapere, devo dire che non sono un ladro e devo sporgere querela, ora il problema è questo, in generale se uno sporge querela la tutela ce l'ha, salva una ipotesi, che si tratti di una persona che ha pubbliche funzioni e che i fatti riguardino l'esercizio di pubbliche funzioni, in questo caso è sempre consentita a chi pubblica la prova liberatoria, cioè che è vero quello che ha scritto sul giornale o che ha detto per televisione e quindi è chiaro che se poi quei fatti sono veri è difficile che quello possa avere tutela con la diffamazione, ma il segreto non tutela la reputazione. La replica dell'onorevole Sisto al quale voglio aggiungere, aspetti un attimo.